secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie poi ah vai vai io non ci voglio andare già già visto la situazione ma non mi piace così basta come stai tutto a posto no sto a posto già cominciato male maestro cerca di mangiare un po più da cristiano mi sembri un talebano cazzo io direi di iniziare questo rep con la chat sono di casoria gilipadesi questo rep per i miei fratelli ciao 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 oddio che schifo eh oggi ho scusato eh scusato oggi ho capitato aspettato bello 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 il piatto si chiama lo prendi nel culo capito? il piatto si chiama del culo va nooo nooo ma davi ha laggato abbiamo oh che cazzo è ma non ho ordinato oddio jogan aspettate alex mi hai messo le stesse cose che mangiare mangiare la forza mangiare lo sushi cazzuoli io lo amo il sushi che devo fare mi hai messo le cose sembra la pasta io non ho un centinaio di domande molto veloci alle quali loro dovranno rispondere e ci si diverte e ci si diverte chiedo anche al maestro rise se può entrare in chiamata e tu sei tranquilla camilla si sto bene direi una favola una favola una favola perfetto e allora iniziamo questa favola eh pronto dimmi dimmi e non mi senti ok ahhh ho incontrato diretta nella mia casetta che mi ha fatto una pugnetta oh mio dio goduro tanto ahhh sono arrivato in faccia oddio tanto è arrivato il marito e me le ha date e gan 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 maestro questo è notata sono solo che vedo come la va oh grazie zabrox e tocca a te presentarti che stai dicendo vai dove vai vai che ti presentava sono Gennaro vai non devo parlare che devo dire c'è stato bo adesso è tutto scemo ma se ne sto a fan culo 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 mi ha perduto tempo ma presto a criticare eeeh Gennaro salve senti ma io ho visto che tu sei senza soldi io non c'ho proprio soldi ma perchè non viene a lavorare con noi eh ma io lavoro alla rimozione eh ma non siamo amici la rimozione fatti licenziare fatti licenziare e quanto me paghi? eh te arrivo 3.000 stipendi allora quanto ti prendi quanto ti diamo di stipendio lui zero? no zero RONGO! ah 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 ok scusate un attimo ehm perché sto un attimo concentrando proviamo la nostra bevanda No, ho trovato chissà, trovato chissà, quando ero fatto? Eh, non ero sul kit, era una modifica e il lavaggio Arrivo? Prostato, l'ospedale? Ecco, una con i capelli Ecco Qua c'è io... Quanta ne hai? 18 anni qua Sei 18 anni 18 anni? Vabbè Cazzo c'entra cosa t'ho detto io, scusami Eh, tu mi hai detto una cosa su mia sorella, ma ti rendi conto di cazzo che tu? E allora che cazzo mi dì? Che volendo me la slovo pure Sì, bravo! Allora, non mi chiediamo, dove non vado? Oddio! Oddio! Che cazzo! Oddio! Oddio! Boh... Ero Wikipedia! Oddio! Oddio! estaba creado SO CAMBIAAAAA COSIN CAZZO COSIN CAZZO COMMEN CLE DEL TITICO E' STAFFIMA c'è c'è oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oh lui mi ha uccidito pure ma lì sa che ho fatto uno oddio mi scusi ma che cazzo ti sa mi scusi siamo fuori un missile proprio porco dio la madonna pagate la sub dio cane puntesco amativo prime pagate la sub oh cazzo 1727 fratelli non si sente abbigliata amplifon dobbiamo tornare 4000 la sub